Musica Buona festa di San Pio, cari amici di Padre Pio TV e buona giornata. Una giornata di festa che ci vede insieme. Ovviamente ci prepareremo anche a vivere la celebrazione eucaristica, il Santo Rosario delle Dieci. Con me, come lo scorso anno, padre Franco Moscone, arcivescovo della diocese di Manfredonia V.S. San Giovanni Rotondo, direttore generale dei gruppi di preghiera. Ben trovato. Buona festa, buona solennità di San Pio a tutti, a chi ci segue per TV e a te. Grazie. Che hai pazienza di intervistarmi continuamente. No, grazie, la mia pazienza è sua e la disponibilità tantissima. La ringrazio anche perché abbiamo passato nove giorni insieme in preparazione a questa festa. Abbiamo avuto tantissimi riscontri da parte. Su un tema comune, insomma, la preghiera, in particolare la preghiera per i gruppi di preghiera, quindi dentro la spiritualità associativa, insomma, della nostra associazione, che sono i gruppi di preghiera di Padre Pio sparsi in tutto il mondo, che ormai sono diventati anche poliglotti. E lo abbiamo sentito anche ieri nella veglia durante la messa finale con la partecipazione di più lingue, potevano essere anche molte di più. Eh sì, e infatti lei ha partecipato alla veglia, stamattina, insomma, buon'ora si è svegliato per raggiungerci e doppiamente grazie. Padre Franco, ci fa enormemente piacere la sua presenza perché sta vivendo per il secondo anno consecutivo questo periodo dell'anno. Ed è stato un anno parecchio difficile. Direi che per me sono state tutte e due veglie inedite. La prima, perché non avevo mai partecipato a nessuna veglia e a nessuna solennità di San Pio, per me era inedita anche se per la maggioranza dei devoti e di chi segue Tele Padre Pio era nella norma, diremmo che era la tradizione. Ecco, quest'anno è stata inedita per le modalità e per la situazione che stiamo vivendo, ma credo che siano entrambe vere e forse questa ci chiede una verità più profonda e un'adesione alla realtà più stretta e più potente. Paradossalmente ci fa più vicini anche a coloro che soffrono, alle persone fragili. Noi a loro vogliamo anche mandare un forte abbraccio perché sono tanti, sia i degenti in ospedale, in casa sullevo della sofferenza, che seguono Padre Pio TV, ma anche persone fragili che sono a casa e sole. Certo, certo. La festa di Padre Pio è una festa che collega tutte le persone in difficoltà, l'umanità intera crocifissa, diciamo. Se lui parlando di se stesso dice la mia crocifissione, la crocifissione del Signore continua nella carne di chi soffre, in tutte le forme, in modo particolare ovviamente di chi vive la situazione di malattia e di disagio fisico. Noi abbiamo ovviamente la veglia, è stata scandita da diversi momenti di preghiera. Ascoltiamo un brevissimo stralcio del Ministro Provinciale di Sant'Angelo e Padre Pio, Fra Maurizio Placentino. Carissimi fratelli e sorelle, è davvero strano ritrovarci giusi e pochi questa sera, ma tutti siamo coscienti che siamo una piccola rappresentanza. Rappresentiamo tanti altri, tanti fedeli, tanti devoti di San Pio, che di cuore avrebbero preferito essere presenti questa sera, ma siamo uniti a loro, li sentiamo vicini e con loro e per loro preghiamo. Questa sera noi vogliamo presentarci al Signore offrendo e presentando tutta la sofferenza e la fatica dell'umanità. Ancora una volta vogliamo presentare a Lui ogni nostro dolore, ogni nostra fatica, ogni nostro sacrificio, ogni preoccupazione. Vogliamo cominciare questo lungo momento di preghiera disponendoci a farci curare da Gesù. Vogliamo partire da questo. Vogliamo presentare a Gesù i bisogni dell'umanità e ogni nostra piccolezza, ogni nostra preoccupazione. Vogliamo affidarci con fede a Gesù. Ecco, affidiamoci a Gesù. Questo è un momento, è stato un tempo in cui un'occasione per ripensarsi, eliminando tutto ciò che di superfluo ci ha circondati fino ad allora. Beh, se guardiamo alla situazione mondiale, ecco, non solo quella che abbiamo vissuto e stiamo vivendo direttamente noi, direi che c'è stato come una frenata, un rallentare, più che un blocco, perché nulla si è bloccato, ma senza dubbio le velocità, i ritmi che cercavamo di mantenere, il voler essere sempre più veloci, l'andare avanti, insomma, è stato bloccato o comunque è stato sconfessato, insomma, il virus ha rallentato l'intero pianeta e anche l'umanità stessa. Ciò che si cerca di correre in questo momento è la ricerca dell'antivirus, è la ricerca del vaccino medico per salvarci da questa situazione. Mi domando se l'andare troppo veloce anche in questo è così scientificamente corretto, oltre che il fatto che dal punto di vista del tempo non è detto che ce la facciamo. È vero invece che tutto si è rallentato, c'è forse una riscoperta del significato autentico della temporalità, forse voler andare veloce, anticipare, scoprire il continuamente nuovo era ed è una tentazione dell'uomo di raggiungere l'eternità, una tentazione impossibile, perché l'eternità non la possiamo raggiungere noi, siamo dentro il tempo e non ne siamo fuori, lo possiamo forse accelerare, possiamo usare una Ferrari o una 500, andiamo a velocità diverse, ne vorremmo una Mercedes che vince la Formula 1, che è migliore della Ferrari, ma alla fine siamo sempre nel tempo. La pandemia e quello che sta succedendo ci ha detto rallenta, ragiona sul dono e sul significato che ha il tempo in sé e quindi sul limite stesso che il tempo segna, segna per tutto, segna per la creazione in generale, per il pianeta che ha bisogno di rallentare e segna l'umanità stessa che forse ha bisogno di ripensarsi. Questo è un dono che supera, secondo me, quelle che sono le stesse caratteristiche magari della religione e della nostra particolare religione, perché sta parlando a tutti indifferentemente, credenti e non credenti, cristiani e di altre religioni, atei, agnostici, ossia tutti siamo interpellati sul tempo, su come lo vivevamo, su come lo desideravamo, su come lo progettavamo e su come in realtà invece la situazione è. Un rallentamento che ha riguardato tutti e riguarda ancora tutti, in effetti nessuno è escluso da questo, così come nessuno si salva da soli e ci siamo ritrovati comunità universale. È una comunità veramente antropologicamente universale, ossia ha raccolto tutte, mi pare che ci sia solo l'Antartide rimasto, sembra, dalle statistiche, incontaminato, ma anche lì si dice che starà arrivando, forse con lo scambio poi di chi sta nei luoghi della ricerca e della scienza che costellano quel continente. Per cui è un'universalità geografica, un'universalità culturale, un'universalità etnica, c'è tutto, però c'è questo aspetto comune, che a differenza delle culture precedenti, perché anche l'ultima grande pandemia storica che fu la spagnola raggiunse l'universalità del pianeta con tempi un po' più lenti, perché allora non avevano i voli intercontinentali e le crociere che sono stati i primi elementi che hanno trasportato il virus e non di sicuro gli emigrati o chi arriva con i barconi, che sono arrivati dopo quando il virus c'era già ed era diffuso in tutto il mondo, ma a differenza di quelle pandemie c'è anche un pensiero ormai comune, in pochissimo tempo ci si è dovuti prendere atto della situazione e ragionarci su. Quindi credo che oltre ad essere una globalizzazione dal punto di vista geografico e anche una globalizzazione del pensiero, ha obbligato tutti a ripensare e sta obbligando tutti a ripensare. Ci ha fatti tutti uguali questa emergenza. Io correggerei l'affermazione. Non è che ci ha fatti tutti uguali, perché tutti uguali lo eravamo già, ci ha fatto rendere conto che siamo tutti uguali, cosa che avevamo dimenticato, anche se scriviamo magari nelle aule dei tribunali la legge è uguale per tutti, in realtà quel per tutti è sempre stato per qualcuno in più e per qualcuno in meno e qualcuno si sentiva e si è sempre sentito e si può parlare in generale della nostra civiltà occidentale tranquilla e a posto e al sicuro. In realtà questo ci ha fatto capire che non è assolutamente così, è un veramente per tutti e quindi è a prendere atto di questo limite che ci accomuna. E che avevamo perso di vista. Benissimo, ci va bene anche se li ripresi? No, non è stato un riprendere. Va benissimo, il senso era quello. È stato un dialogare sui temi e quindi è un cercare insieme di sviluppare e di capire. È giusto, è giusto così. Chi era più debole in questo periodo si è sentito ancora più debole. Ovviamente la malattia colpisce sicuramente chi ha già dei problemi, ma per stare bene tutti è giusto che tutti si impegnino a rispettare delle regole che ci sono state date. Gli ammalati di casa sollievo della sofferenza in quel periodo lei lo ha frequentato abbastanza, parecchio, quindi si è fatto vicino. Durante il lockdown, quello che è stato chiamato così, insomma, durante il momento di chiusura, di restrizione, credo che siano stati i giorni in cui personalmente ho viaggiato di più perché andavo sempre su e giù da Manfredonia a casa sollievo, quindi non ho vissuto una chiusura, ho vissuto piuttosto un tentativo di vicinanza a queste situazioni di limite, anche se ovviamente non mi hanno mai permesso di entrare nei reparti e ne l'ho chiesto, insomma, forse ho avuto un po' di paura. Però l'ambiente era quello e la vicinanza era quello, anche il senso di responsabilità in quanto presidente della fondazione di casa sollievo della sofferenza, insomma, e quindi anche il mio pensiero fondamentalmente si concentrava lì. Sicuramente ha viaggiato con l'autocertificazione divina e materiale, quella di cui avevamo tutti, insomma, l'avevamo in mano, eravamo in possesso. E a proposito di preghiera poi in rete che in quel periodo si è fatta più forte, ascoltiamo il segretario dei gruppi di preghiera, Fra Luciano Lotti, che ieri ha animato uno dei momenti della veglia. Il tempo presente ci interpella con il grido di dolore di tanti che vivono nella sofferenza generata dai mali del corpo e dello spirito o da lutti e tragedie, spesso vissuti in solitudine e privi della solidarietà dei fratelli. Padre Pio ci invita ad andare appresso a Maria per comprendere il valore salvifico della passione e morte del Figlio Gesù, mistero in cui trova senso ogni patire umano. Ecco, in rapporto a Casa Sollievo della Sofferenza, lei durante la giornata della sofferenza ha preseduto la celebrazione per gli ammalati e per il personale medico, gli operatori sanitari. Ha definito quella casa, luogo di preghiera e di scienza ed è stata costruita per il bene dell'ammalato. Si continua a tenere questo punto di vista? La definizione di casa di preghiera come luogo, la Casa Sollievo della Sofferenza, come luogo di preghiera e di scienza e nel secondo testo come tempio di preghiera e di scienza. Quindi non è una definizione mia, ma loro è presa alla lettera con questa differenza dei primi due testi di padre Pio, discorsi di presentazione dell'opera nel 1956, la definì luogo di preghiera e di scienza e l'anno successivo, all'anniversario tempio, facendo un salto e uno sviluppo direi di qualità. preghiera e scienza. Preghiera perché credo pensasse all'impegno dei gruppi di preghiera come anima per il mantenimento dell'opera sanitaria e ovviamente scienza è più facile da capire, proprio per quello che si vive, insomma, la scienza al servizio dell'ammalato e quindi della medicina, che è arte medica, però si fonda su che cosa? Sulla ricerca scientifica. Padre Pio era veramente un visionario, guardava direi oltre i secoli, non solo i decenni, perché parlava già allora di un centro internazionale di alta ricerca. Ecco, chi l'avrebbe pensato? Tanti anni fa. Credo nel 1956, insomma, quindi i santi vedono oltre il loro tempo perché in qualche modo sono già nell'eternità, ossia vivono il tempo sotto, come dire, la visione dell'eterno, sotto la sigla dell'eterno. L'anno scorso definì il letto dell'ammalato un altare. Ogni gesto intorno al letto è una celebrazione dell'Eucharistia nella carne, una medicina che cura il peccato, l'antivirus del peccato. Quest'anno ci ha aggiunto anche, oltre all'Eucharistia, la riconciliazione. Quest'anno volevo dire che l'ambiente poteva essere anche un confessionale. Ecco, poi non ho utilizzato il termine in sé, anche perché non lo trovo molto bello, il termine confessionale fa pensare, insomma, ad uno strumento chiuso, bloccato. E riconciliazione non funzionava. Però il pensiero è quello. Quando si parla di cura, di prendersi cura, è più che semplicemente prescrivere delle medicine o compiere dei gesti e delle azioni di terapia, che ovviamente non possono mancare e devono essere scientificamente, professionalmente provate e il più sicuro possibile. Ma è entrare in una relazione. La prima cura che sta all'origine di una possibile guarigione è quella di una relazione. Allora, in qualche modo, credo che tutti coloro che svolgono la professione di tipo sanitario, dal medico all'ossa, qualsiasi che si avvicina al letto del malato, in qualche modo partecipa al mistero della cura, che è poi il mistero della riconciliazione, direi della riconciliazione, che è un sacramento, ovviamente dal punto di vista ministeriale, ma come tutti i sacramenti è lo sviluppo del primo sacramento, che è il sacramento del battesimo, che tutti abbiamo. Quindi volevo dire che quello che si sta vivendo, se si vive veramente da cristiani, oppure da professionisti seri anche in ricerca, è che quell'azione è un'azione eucaristica ed è un'azione riconciliativa. Quindi i due sacramenti ministeriali sono presenti e sviluppati dentro la ricerca e la professione sanitaria. e fondamentali per la guarigione. Credo che Padre Pio non mi scomunicherebbe a dire che il letto dell'ammalato è un altare e la stanza è un confessionale. No, forse direbbe giusto, ha detto bene. Proprio lì, intorno all'ammalato, che c'è attenzione, che ci deve essere, attenzione, ascolto, come lei stesso riferiva durante l'omelia, la relazione, l'ascolto, il dialogo, il farsi sentire vicino, ma anche il piangere insieme. Certo, quello mi ha colpito, soprattutto nel periodo del lockdown, poi sia ascoltando testimoni diretti, che hanno lavorato qui a Casa Sollievo, sia, come si dice, andando a vedere in internet, in vari social, di testimonianze di persone, la maggior parte poi giovani, che sono stati vicini a chi era ammalato. Ho presente, io ogni tanto faccio un giro così nel corso a Manfredonia, sperando di non essere riconosciuto, ma mi riconoscono in genere quasi sempre, e mi si avvicinò un ragazzo e poi mi ha raccontato che era stato come tra quelli andati al nord, perché era un infermiere, e mi ha raccontato di aver assistito alla morte di un paziente, lui ha lavorato sul 118, quindi andando direttamente nelle case. In qualche modo, dico tra virgolette, ha amministrato il sacramento della confessione, è stato il momento che ha mediato cristianamente, visto che era credente, insomma questo momento fondamentale, anche se non era prete, però era battezzato e partecipava al sacerdocio comune dei fratelli, e quindi quella carezza, quel abbraccio, quel tentativo, insomma quella parola, che cosa è stato se non facilitare la riconciliazione. Per cui questo piangere insieme è veramente le lacrime del battesimo che sanano, che purificano e che aiutano. Io credo siano stati tantissimi gli operatori, e che lo siano ancora, perché non c'è solo l'Italia, insomma c'è il mondo intero, che stanno, magari senza saperlo, compiendo questo gesto sacramentale, che solo il Signore interpreta e interpreta a modo suo, che è il modo della misericordia e dell'abbondanza della misericordia. Solo a loro era concesso in quel periodo, è ovviamente una immagine forte, quella del piangere insieme. Siccome il protagonista, uno dei protagonisti della Veglia, è stato anche lei, in un momento dedicato ai Vespri, vogliamo ascoltare subito un suo stralcio, di una sua riflessione. E essere superiori a noi stessi. E poi utilizza un verbo che apparentemente ci turba, perché dice e disprezzare essere superiori non significa mettersi in alto a se stessi, ma significa disprezzare veramente e costantemente noi stessi e le cose del mondo. Mi piace questo testo anche perché nel testamento spirituale del mio fondatore c'è lo stesso verbo e le stesse parole dette 400 anni prima di Padre Pio. Disprezzare le cose del mondo che non è non servire e testimoniare il mondo, ma mettere le cose al proprio posto, fare giustizia, mettere Dio al primo posto. C'è poi una seconda definizione di santità ed è quella più ovvia. La santità è amare il prossimo come noi stessi per amore di Dio e Sacra Scrittura. Sono le parole del Vangelo e dell'Antico Testamento. la santità e l'amore del prossimo fino al punto di amare chi ci odia, chi ci perseguita, chi ci maledice. Sono le beatitudini, sono il discorso della montagna, sino a fargli del bene. e una terza definizione. La santità è vivere. Che bello! Ecco, dopo averci detto che è disprezzare, che è amare fino ad amare il nemico, dice è vivere. Sembrerebbe molto più facile questa terza definizione. Ma è vivere facendo crescere alcune virtù, assumendo atteggiamenti e ne elenca dieci. Ma la cosa più bella per me e mi dispiace quindi, non è stata messa all'ultima riga, la riga seguente faceva una sintesi. Padre Pio scrive breve, che credo voglia dire sintetizzo. In breve ti dico tutto ciò che è santità. Dice breve, cara Raffaelina, la santità è la virtù che trasforma secondo quanto ci dicono i libri sacri, è la virtù che trasforma l'uomo in Dio. credo che sia veramente una sintesi stupenda di ciò che è santità e aprirci a questa forza virtù, forza virtù dello Spirito di Dio che trasforma la nostra umanità in Dio. La sua riflessione è tutta da riascoltare, noi abbiamo estratto questo momento in particolare, so che a proposito di santità oggi risulta un po' parlarne, ci sentiamo tutti un po' distanti, anche se ci viene detto che è raggiungibile in ogni ambiente. E la stranezza, perché il Concilio Vaticano II ha ribaltato il concetto di santità come lo pensavamo precedentemente o come veniva presentato, come se fosse un obiettivo a cui pochi potevano raggiungerlo, i santi che venivano canonizzati, la maggioranza rimanesse in una situazione di peccato o comunque di minoranza rispetto alla santità, che era obiettivo di pochi. Il Concilio Vaticano II ci ha detto che invece la santità è comune, la santità è universale per tutti, è strano che poi non è che tanto ce ne siamo dimenticati, abbiamo continuato però in una logica mentale precedente e quindi considerandola sempre come un qualche cosa che ben pochi ottengono, come se fosse, ho detto nella parte in cui non è stata ripetuta che la santità non è un partecipare alle Olimpiadi dove ci sono alcune gare e per ogni gara vince uno e poi ci sono due che stanno sul podio e tutti gli altri gli è stato fatto maramao allora questa non è la santità questa è una gara la santità invece è comune universale è possibile a tutti perché innanzitutto è donno di Dio a cui poi cerchiamo di rispondere ci porta tutti comunque al primo posto e ci dona tutti la stessa medaglia perché la medaglia della santità è essere trasformati in Dio e essere divinizzati essere cristificati quindi questa università universalità è questo aspetto comune della santità che dobbiamo riprendere Papa Francesco ha dedicato l'esortazione apostolica gaudete ed esultate due bellissime parole due bellissimi verbi godete e esultate e li ha applicati alla santità dicendo che guardate è di tutti e la santità sta nella porta accanto in chi ti accosta in chi vive sullo stesso tuo pianerottolo e magari non te ne sei mai accorto insomma una santità di cui non ce ne accorgiamo era il grande messaggio secondo me del concilio Vaticano II che ripetevamo come testo ma non siamo mai entrati dentro tutto lo sforzo di riscoprire la misericordia di Dio iniziato con Santa Faustina Kowalska e da Giovanni Paolo II polacco come lei la giornata della misericordia la domenica successiva alla Pasqua il giubileo della misericordia voluto da Papa Francesco e tutto questo ci porta a centralizzare quello che è l'immagine della santità come dono di tutti possibilità di tutti e impegno di tutti e che alla fine non ci rende identici uguali e fotocopie ma da ciascuno la propria bellezza e diversità ma nello stesso tempo lo stesso premio e quindi ci unifica e ci universalizza in Dio perché Dio premia con se stesso una chiamata alla quale bisogna soltanto dire sì a proposito di santità e di martiri mi è venuto in mente il sacerdote ucciso pochi giorni fa a Como don Roberto Malgesini lui ha donato la sua vita ogni giorno e non soltanto in quel momento in cui è stato assassinato quanto è cambiata la figura del sacerdote oggi 23 settembre 2020 rispetto al sacerdote Padre Pio che passava la sua vita dentro la chiesa tra l'altare e il confessionale anche se questo termine è un po' chiuso oggi i preti sono chiamati ad uscire fuori così come ha fatto Don Roberto io non lo so quanto sia cambiata la figura del sacerdote dal 1968 ad oggi anche perché nel 68 facevo quinta elementare e quindi non ho alcun ricordo particolare io temo temo che questa uscita non sia poi così universale ci sia dentro la chiesa un voler molte volte come preti riposizionarci è la tentazione di tutti insomma di cercare la sicurezza e il posto mentre il Signore ci chiede di uscire e la santità è quella di uscire grazie a Dio ci sono preti martiri preti testimoni che magari mentre vivevano non erano così ben rispettati o accolti in particolare dai propri confratelli nel sacerdozio è profetico che Don Roberto sia stato assassinato lo stesso giorno del beato Don Puglisi Pino Puglisi il 15 di settembre il giorno della della dolorata ed è anche originale che vengano toccati i due punti più a sud e più a nord dell'Italia insomma la Sicilia e la Como che è a pochi chilometri insomma dalla Svizzera bisogna leggere la storia e la geografia con lo sguardo profetico e scopriremo che il Signore ci sta parlando e scopriremo anche che certe immagini e certi comportamenti devono diventare universali e credo che Don Roberto ci sia di testimonianza in questo soprattutto a noi preti insomma l'altare e il confessionale non è ciò che sta dentro l'aula o l'ambiente chiuso del Tempio quello è quando lo celebri e lo esalti ma è la situazione comune fuori ecco là dove il Signore si fa presente in particolare il Signore ci ha detto che si fa di sicuro presente nei poveri e negli ultimi anche se non sono battezzati e quindi è lì dove si celebra l'Eucarestia e la riconciliazione innanzitutto e lui lo ha fatto lo faceva senza esaltare senza scrivere senza trasmettere niente di particolare ma è stata la sua vita che ha parlato e ha parlato soprattutto in questo momento finale che è diventato profetico io credo ovviamente il martirio non va strumentalizzato ma imitato non va strumentalizzato innanzitutto io ho presente quanto sia stato strumentalizzato per motivi falsi il martirio di San Oscar Romero nell'America Latina per oltre 30 anni abbondanti dalla stessa chiesa per condannare e per dire che non tutti i martiri sono uguali che alcuni non erano martiri ma non va neppure imitato ecco perché è impossibile imitare un martire perché il martire è quello che ripete in qualche modo senza volerlo e senza cercarselo perché la croce del Signore è il martirio del Signore e ogni martirio è unico perché è inserito in quel particolare ambiente in quella particolare situazione e in relazione a quelle particolari persone però va imitato il modello di vita il modello di vita come come offerta ecco il martirio come offerta della propria vita anche se non arriva se non per pochissimi grazie a Dio allo spargimento del sangue quello sì ossia in questo senso in quello che invece chiamiamo martirio vero e proprio insomma della morte violenta in odio alla fede o alla carità che sta che origina nella fede cristiana questo è inimitabile è in qualche modo un dono particolare che il signore chiede offre ad alcuni lo avrà offerto credo in questo caso a Don Roberto come 30 38 no 28 anni prima mi pare 92 a Don Pino Pulisi è bello anche intanto questa riflessione che ci aiuta a fare ma anche il modo di interpretare i segni di cui parlava prima ci sono stati diversi momenti fino poi alla celebrazione eucaristica oltre la mezzanotte quindi si è tirato tardi anche ieri una santa messa ovviamente preseduta dal ministro generale dei frati minori cappuccini fra Roberto Genuin ascoltiamo un breve pezzo della sua omilia sembra che il brano del profeta Ezechiele cui fa riferimento Francesco e che abbiamo ascoltato nella prima lettura ci spinga anzitutto a vigilare nei confronti di altri che conducono una vita erronea o nel peccato cosicché se opportunamente da noi avvisati possano convertirsi e non perire bene sembra dirci Francesco ricordati che il vero richiamo alla conversione del malvagio non è il richiamo verbale o la disapprovazione espressa il vero richiamo alla conversione del malvagio è è la tua conversione è la tua rettitudine è il tuo impegno di vita santa è l'esempio della tua condotta di vita è il buon odore della tua fama sii sentinella sii vigile con te stesso e così lo splendore della tua vita diverrà ammonimento anche per altri è chiesto a me e a te di guardarci nell'intimo della nostra anima e della nostra coscienza per estirpare ciò che ci imbratta e diventare più puri pensate come questo percorso essere sentinelle secondo il cuore e il mandato di Dio non è limitato neppure da nessuna condizione che caratterizza la vita dell'uomo siano esse giovinezza maturità vecchiaia salute malattia povertà agiatezza serenità o preoccupazioni e metteteci tutte le altre condizioni che l'uomo può vivere quale che sia la condizione che viviamo a tutti è sempre 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 possibile vigilare da buone e sagge sentinelle sui propri pensieri sui propri sentimenti sulle proprie aspirazioni sui propri desideri sulla propria buona o cattiva volontà sulla propria adesione sincera alla volontà di Dio sulle proprie cose da correggere o purificare Padre Franco se si ha anche soltanto un brigolo di coscienza ci si sente chiamati in causa dopo aver ascoltato queste parole correzione fraterna la correzione fraterna si pensa che si debba fare o si possa fare attraverso il linguaggio verbale e lo si fa anche attraverso il linguaggio verbale ma è già il secondo passo perché il problema è chi deve fare la correzione fraterna e con quale autorevolezza ecco puoi compiere questo gesto di correzione fraterna il capitolo 18 di Matteo ci spiega i possibili passaggi e anche l'ordine dei passaggi della correzione fraterna ma non risponde a questa prima domanda a meno che guardando a chi dice quelle parole che è Gesù quindi per compiere la correzione fraterna in modo corretto devi prima essere tu fratello e devi avere le caratteristiche del fratello io credo che padre ministro generale ieri sera padre Roberto abbia in qualche modo presentato ciò che precede il gesto verbale della correzione fraterna è l'unica modalità per cui le parole che dici o che cerchi di offrire come dono al fratello possono essere da lui accolte ed entrare come un seme che incomincia a lavorare nella coscienza e nel pensiero ossia la genuinità della persona e della genuinità evangelica che non vuol dire essere senza peccato ma vuol dire mettersi alla sequela del Signore e la grande intuizione di Papa Paolo VI che diceva oggi si ascoltano i testimoni e non i maestri purtroppo anche lì abbiamo continuato a essere in cattedra e a fare i maestri invece di scendere dalla cattedra fare passi verso il basso e mettersi in mezzo alla gente come testimoni lo aveva già intuito San Francesco dicendo che quando insomma puoi utilizzare anche le parole per predicare ma solo se ti manca altro mentre possono essere superflue e lo sono di sicuro le parole superflue nella predicazione se la tua vita è come ci ha spiegato limpida ed evangelica ed è quella che tocca il Papa Benedetto lo intui e il Papa Francesco ne continua a ripetere continuamente insomma la crescita della Chiesa non è per proselitismo ma è per attrazione e l'attrazione non avviene di luvi di parole o di prediche deriva dalla testimonianza limpida esterna comprensibile da tutti quindi vigilare prima di tutto su se stessi essendo tutti poi peccatori il cristiano è un po' abituato a vedersi tiepido mite sempre è invitato ad essere mite però noi ricordiamo Gesù arrabbiato al tempio e anche Padre Pio sappiamo essersi arrabbiato parecchie volte sì però dipende credo dall'animo con cui fai assumi questo atteggiamento esterno è questa forma di passione perché è una passione poi la passione è l'esaltare direi in forma quasi da elevare a potenza ecco quello che è una virtù un atteggiamento normale insomma se io rendo l'amitezza passione passione del cuore della mente mi può portare anche a esprimere in forma forte ecco certe modalità ma deve rimanere quella ossia è fatto perché sto cercando di donare il dono dell'amitezza che è necessaria alla salvezza a me innanzitutto che mi convinco di più e al fratello la sorella che in quel momento con cui in quel momento sono in relazione quindi non per per rompere o per giudicare ma per dare maggior forza comprensione empatia ecco a quello che è a quello che è la virtù dell'amitezza ecco perché alla fine dice Gesù sono i miti che erediteranno la terra e quindi l'amitezza è una virtù forte non è una virtù debole non è un pensiero debole e qualche volta insomma per esprimersi ha bisogno della passione quando l'amitezza diventa passione può apparire credo anche in queste forme che attribuiamo dicono anche padre Pio abbia usato più volte ma non per cacciare la gente non avere misericordie ma per farli crescere insomma nel bisogno e nel desiderio della misericordia di Dio una tiratina d'orecchia beati i miti beati loro ecco come si può dire noi siamo arrivati in chiusura del nostro stare insieme in questa giornata di festa Sam Pio ovviamente la vedrà ancora protagonista perché ci sono diverse celebrazioni tra cui quella delle 18 preseduta proprio da lei 18-17 mi sto confondendo mi pare 18 18-18 bene allora poi daremo anche notizie di questo un augurio padre Franco per passare al meglio per affrontare al meglio questo periodo che ci sta aspettando che è un po' incerto è un po' incerto ma è certo che ci dobbiamo comportare secondo certi atteggiamenti che ci sono stati consigliati e che sono stati consigliati da chi forse ne sa un po' più di noi e dobbiamo avere fiducia quindi credo che il primo atteggiamento sia quello della fiducia che anche per chi non crede è lo scalino precedente alla fede ecco se la fede è in nostro rapporto con Dio la fiducia è il rapporto con gli altri e quindi vivere questo atteggiamento con fiducia anche nei consigli che ci vengono chiesti nei protocolli che ci vengono offerti e poi che altro pensare che comunque il mondo vuole essere salvato dal Signore quindi non siamo all'Apocalisse di sicuro anche se tanti comportamenti umani insomma danneggiano le situazioni pensiamo soprattutto agli aspetti ecologici ai cambiamenti climatici alla malattia del pianeta che non è solo il coronavirus il coronavirus ha toccato noi come specie umana ma il pianeta è molto più malato del coronavirus e tocca a noi prenderne atto e assumere le nostre responsabilità abbiamo fiducia perché ripeto tutte quelle visioni del mondo e della situazione di tipo apocalittico o di fine del mondo sono sempre state tentazioni presenti nell'umanità e come tali insomma non sono buona notizia non sono Vangelo non sono Sacra Scrittura non vengono dal nostro Dio e quindi fiducia che Dio ha salvato il mondo e vuole salvare noi e tutti e ci dà una mano per quello ci affidiamo a lui come sempre grazie ancora una volta padre Franco buona giornata messa confermata ore 18 buona giornata e buona festa grazie noi ci rivedremo presto sicuramente anche in attesa di fratelli tutti la nuova esortazione di Papa Francesco grazie a tutti